Cari telespettatori, benvenuti, buonasera, ben ritrovati in questi spazi dedicati agli approfondimenti, approfondimenti in questo periodo a maggioranza politica. Attraverso questi spazi riusciamo a conoscere alcuni dei protagonisti alla prossima tornata elettorale delle amministrative. Gradito ospite qui nei nostri studi, Davide Rossi, che si candida al Consiglio Comunale nelle liste della Tua Fano, che appoggia per la coalizione di centrodestra Lucia Tarsi a sindaco. Davide Rossi, allora, una esperienza da amministratore, nutrita, direi corposa, attraverso diverse sfaccettature, che adesso mette in campo con argomentazioni importanti. Quali sono i tratti distintivi di questo suo nuovo, così, nuovo amore per la politica cittadina? Sì, infatti io sono stato cinque anni fuori dove mi sono confrontato con il mercato privato, non avendo io un posto garantito da dipendente pubblico come molti politici e quindi ho potuto affiancare alla competenza amministrativa che ho sviluppato negli anni da pubblico amministratore e anche una conoscenza del mercato privato, delle tematiche economiche. E uno dei motivi per i quali ho deciso dopo cinque anni, in cui ho fatto altro, di tornare a candidarmi e che mi sembra che proprio su questo ci siano delle lacune molto forti. La città in questi cinque anni a mio avviso è rimasta ferma, è rimasta ferma, non c'è stata nessuna nuova iniziativa dal punto di vista né dell'amministrazione comunale né di stimolo a iniziative private. Una città che rimane ferma cinque anni in un mondo che così va veloce vuol dire che torna indietro praticamente. E in queste città se ci pensiamo al di là di una grande azienda come la Profilas che continua ad assumere e che per fortuna crea occupazione, non c'è stato null'altro di nuovo. E quindi questo mi ha portato a pensare che sia necessario che alcune persone che hanno delle idee, hanno delle competenze, le mettono a disposizione. Ad esempio una proposta che mi sento di fare sul tema economico, una proposta di metodo diciamo così, è quella di istituire un forum economico, c'è un luogo messo a disposizione dall'amministrazione comunale dove le forze produttive, economiche e sindacali della città si confrontano ad esempio con cadenza trimestrale perché ci sia un lavoro interprofessionale, quindi professioni, imprenditori, sindacati e tutte le forze economiche che agiscono nella città che possano elaborare loro le strategie sulla base di quelle che sono le loro difficoltà, speranze e iniziative che vogliono mettere in campo nel quotidiano. L'amministrazione comanda dal mio punto di vista dovrebbe mettere a disposizione le sue leve, quindi agire sul piano urbanistico, agire sul piano dei servizi sociali, assecondando la visione degli imprenditori e delle forze economiche per dare uno sviluppo nuovo alla città, perché altrimenti il comune per come si è mosso in questi anni è semplicemente un fattore che produce burocrazia e che quindi ostacola la crescita economica invece che avvantaggiarla. Poi naturalmente io ho le mie idee su come, questo diciamo è un metodo, una camera diciamo così, un luogo, un forum dove le forze economiche, questo non viene fatto quasi da nessuna parte, con una cadenza si confrontino e lì esprimano idee e l'amministrazione comunale si deve prendere l'impegno poi di facilitare l'attuazione di queste idee in tutte quelle che sono le sue competenze amministrative. Questo credo che sarebbe molto importante. Il forum come crogiolo di idee, però che cosa sono, quali sarebbero se li ha come idee i settori nei quali l'economia fanese dovrebbe incanalarsi? Ci sono tanti filoni, l'edilizia, il turismo, il pubblico decoro, sono tanti gli aspetti. Quali sarebbero quelli vincenti secondo lei? Ma intanto proprio l'urbanistica, io ho constatato che in questi cinque anni dove il piano regolatore è ancora quello adottato mi pare nel 2007-2008 dalla prima giunta a Guzzi, che era un altro mondo, perché proprio nel 2008-2009 è iniziata la grande recessione, fino a prima, cioè quando è stato pensato quel piano regolatore lì invece c'era uno sviluppo impetuoso. Ovvio che quel piano regolatore lì non può più andare bene per i tempi che stiamo vivendo oggi, eppure l'amministrazione comunale non vi ha messo mano per nulla, non solo non l'ha revisionato, ma di fatto è stata fatta una sola variante, una sola variante che è quella poi della clinica privata. Quindi per il resto l'urbanistica che invece è un grosso strumento, il piano regolatore, diciamo di incanalare in una direzione piuttosto che in un'altra l'iniziativa privata sul piano dello sviluppo, non è stato minimamente toccato. Quindi la prima cosa che io farei è una revisione o addirittura la nuova redazione di un nuovo piano regolatore, che cali nella realtà di oggi, che è quella completamente diversa di 10 anni fa, 11 anni fa, quando è stato fatto l'attuale piano regolatore e riveda completamente queste cose. Quindi la prima cosa è rifare il piano regolatore. La seconda cosa che io vedo come estremamente importante per la nostra città come volano economico è la cultura e il turismo, che sono tra l'altro settori nei quali io mi sono occupato, sia come assessore quando ero assessore comunale a Fanno, sia come assessore provinciale. Mi sono interfacciato con la Regione, ho lavorato con il Ministero dei Beni Culturali in questi anni, quindi credo di avere una visione che nella nostra città pochi hanno su questi temi qua. E quindi credo che lì noi possiamo fare molto. La cultura, secondo me, perché sia anche uno strumento di crescita economica, deve essere ovviamente vista coniugata con il turismo. E qui una piccola critica la voglio fare. Io credo che se noi vogliamo crescere economicamente attraverso la cultura e il turismo non possiamo avere visioni solo localistiche da proloco, lo voglio dire. Perché quelle vanno bene, sono una parte del lavoro della città, ma quello non può diventare in una città che non è un piccolo comunello, la visione preponderante di come si fa cultura, di come si fa turismo. Noi dobbiamo sposare la tradizione con la modernità. Noi abbiamo una tradizione culturale importantissima che è la romanità e altre iniziative culturali che sono diventate nel corso dei decenni e dei secoli tradizioni come il Carnevale. Io credo che lei attorno a queste due tradizioni si debba sviluppare tutta la nostra offerta culturale e turistica. Faccio un esempio per essere concreto. Io quando ho fatto l'assessore alla cultura Fano ho cercato proprio di sforzarmi di fare questo. Quando facevo il cartelloni del teatro ad esempio, a cominciare dalla lirica, cercavo di non fare un'operazione che si poteva fare indifferentemente in qualsiasi altra città d'Italia. Oggi è così. Oggi è così. I cartelloni pur dignitosi che propone il nostro teatro sono quelli che troviamo in tutte le altre città. Noi facevamo un'operazione diversa. Io quando ero assessore ad esempio riportai la lirica Fano che era stata cancellata precedentemente, ma lo feci legandolo alla stagione di Carnevale. Noi siamo una città del Carnevale, l'abbiamo messo persino nello statuto del nostro comune. Quindi facciamo la stagione lirica nel periodo di Carnevale, facciamo, e credo che molti se lo ricordano ancora, le feste in maschera a teatro, dove coprimo la platea con un praticabile in legno che consentiva di fare lì le feste ed avevano un grande successo. Lo stesso cartelloni della stagione lirica era caratterizzato sui temi del Carnevale, quindi opere buffe, opere che avessero a che fare con un periodo gioioso e giocoso come il Carnevale. Fondai il Centro Studi di Vitruviani legato appunto alla Romanità. Noi abbiamo questa fortuna di avere questo legame con Vitruvio, io per chi magari non lo sa, non se lo ricorda, Vitruvio è considerato un architetto, è un architetto dei tempi di Roma, Fano è stata a Roma, non dimentichiamocelo, e Vitruvio è considerato in tutto il mondo un po' l'iniziatore della cultura occidentale moderna, colui che ha pensato per la prima volta all'architettura in termini moderni, ed è una figura che viene studiata in tutto il mondo. Lui è famoso per avere composto un trattato amplissimo che si chiama De Architettura, in questo trattato che è alle fondamenta della cultura occidentale come unico luogo dove lui parla di avere realizzato un'opera c'è Fano, è Fano, la Basilica di Fano, che abbiamo provato anche a cercare, non l'abbiamo ancora trovata, ma questo anche l'architettura d'archeologia potremmo fare un discorso, noi dobbiamo sfruttare questo filone. In questo momento ci sono i suoi di Vitruviani invece lì che langue, onestamente. Ecco, questi sono un paio di esempi, ne potrei fare altri, un altro che ne faccio poi termino, misi insieme le compagnie teatrali dialettali fanesi e facciamo un festival che c'è ancora oggi che è Cianfrusaglia. Ecco. E langue è un po' anche quello. E langue è anche quello. Quindi si tratta di ripartire da lì, secondo me, ripartire dalla convinzione che noi abbiamo delle tradizioni sulle quali innestare la nostra identità utilizzando tutto ciò che la modernità oggi ci mette a disposizione, app, strumenti di tecnologia, strumenti di promozione e comunicazione del nostro territorio che oggi sono effettivamente per chi li sa usare straordinari. Alcune città lo fanno pur non avendo il patrimonio culturale di tradizioni che abbiamo noi. Noi abbiamo le carte regole per farlo. Quindi quello è un altro grande strumento, un altro grande volano economico che noi abbiamo. Ecco, l'assist è giusto che mi ha attirato perché penso che turismo, cultura debbano essere coniugati con programmazione soprattutto, ma anche promozione. Qui bisogna cercare anche un'identità di Fano probabilmente in questo. È vero, è vero e devo dire che questo aspetto qua, a mio avviso, è mancato in generale in questa amministrazione, cioè è mancata una strategia, non solo sulla cultura e sul turismo. Un grave difetto che mi ha spinto a tornare anche in campo è questo, cioè io credo che noi siamo una comunità che meriti una visione da parte di chi la amministra chiara, cioè una strategia dove vogliamo portare questa città nel panorama regionale, non solo, nei prossimi 5 anni. Se manca una strategia prevale l'aspetto burocratico, il vivere giorno per giorno e la nostra città non si merita questo. Io credo di avere delle idee e aver sviluppato una competenza che mi consente invece di delineare una strategia per Fano. Adesso noi abbiamo pochi minuti in questa trasmissione, ho cercato di dare alcuni spunti, ma noi abbiamo bisogno di questo. Molto spesso io ancora sento come se noi fossimo un grosso paesone invece che una città di rilievo, che un amministratore lo si giudica anche magari sulla base della simpatia personale, quella è una brava persona. Io mi rendo conto che queste cose qui sono importanti, se uno è una brava persona è meglio che non sia una cattiva persona. Però non può essere solo questo, perché il sindaco e gli assessori devono essere persone che sanno trattare anche quelle cattive persone e devono essere persone con cui noi non è che ci andremo a passare una serata perché sono simpatici, ma sono persone che sanno esattamente qual è il bene della città e conoscono, hanno la cultura, la competenza per portare la città esattamente lì. Io questo in questi 5 anni non l'ho visto francamente. Un ultimo aspetto che vorrei toccare è quello dell'università, che è legato al tema della cultura del turismo. L'università a Pesaro addirittura è stata chiusa per mancanza di fondi, da noi ancora c'è, ma qualche problemino mi risulta che ce l'abbia, non vorrei che finissimo come Pesaro. Allora secondo me le esperienze che ho fatto in questi anni nel campo privato, anche sul piano proprio internazionale, mi dicono che ci sono università estere interessate di investire, che hanno disponibilità finanziarie ed economiche dall'estero. Penso ad esempio la Germania dove ho avuto un'esperienza di lavoro, ma non solo, dove attraverso dei bandi noi potremmo proprio grazie al patrimonio culturale che abbiamo attrarre università estere che potrebbero investire in questa città, in collaborazione, non in sostituzione anche all'università più locali, ma potrebbero portare quelle risorse finanziarie che ci potrebbero consentire di diventare davvero una città universitaria ad un certo livello. Si crea anche un flusso, un flusso di idee, un flusso di competenze che sicuramente, anche se diciamo è una nicchia se vogliamo, oppure una piccola fetta, però comunque è un indice indicativo di qualità di vita, quality of life elevata della città, perché se ci sono certe cose vuol dire che la città ha un certo standard. E comunque un indotto economico lo porta, se pensiamo che una città come Urbino vive prevalentemente di quello, io non dico che noi dobbiamo diventare una città universitaria come Urbino, però potrebbe essere uno dei settori, insieme ad altri ovviamente, che danno respiro alla nostra economia. Anche visibilità, perché dopo quando ci sono delle cose che vengono fatte in città, dopo la risonanza del paese a livello anche internazionale, dove è stato fatto? A Fano, dove? Quindi anche questo come veicolo di promozione potrebbe essere? Abbiamo bisogno di pensare un pochino più in grande, abbiamo bisogno di pensare a questa città in un panorama che non sia solo quello sfittico provinciale. Io credo in questo se gli elettori mi daranno la possibilità di poter dare molte idee e un bel contributo anche di energia. Bene, cari amici a casa abbiamo ascoltato le parole di Davide Rossi, candidato nelle liste della Tua Fano per il Consiglio Comunale, la Tua Fano appoggia Lucia Tarsi a sindaco, turismo, sviluppo economico, cultura, tematiche che l'Avide Rossi conosce molto bene perché le ha toccate in prima persona. Abbiamo visto la sua visione di città in questi temi. Grazie per essere stato qui con noi e anche a voi grazie per averci seguito in questo appuntamento e in questo approfondimento. Alle prossime puntate, arrivederci. Arrivederci.